Con la Fondazione Studi di Orvieto siamo da un anno, forse anche più di un anno, stiamo lavorando insieme nella programmazione nel territorio di attività formative legate in questo settore qui. Abbiamo avuto un inizio quest'anno con delle corsi, un corso in particolare sul restauro archeologico e oggi abbiamo inaugurato la programmazione per il 2019. Diciamo che sarebbe riduttivo dire che da oggi il Centro Studi fa dei corsi di restauro, non è solo questo, nel Centro Studi nasce una scuola permanente di restauro dove Palazzo Spinelli apporta il suo aula, la sua esperienza, le sue professionalità che sono di assoluto livello, Poi si aggiungeranno le attività su materiali capitei, metalli e un corso specifico sul mosaico. Deve arrivare alla formazione sull'applicazione delle tecniche laser sui beni culturali, quindi tecniche innovative sull'argomento, tutto questo accompagnato da seminari e workshop tematici con l'intento di coinvolgere o comunque di creare occasioni di incontro, di contatto su questi temi anche con gli studenti delle università americane che negli stessi periodi, se mette nell'esame school, saranno qui a Centro Studi.